Sono circa due anni che parliamo di uno studio da fare in comune sul drone, che oggi battezziamo ufficialmente Eurodrone, condivido l'imprimatur che Janiv ha dato alla tua intuizione. E come diceva Janiv, è importante perché questa è una capacità critica, ma è questa una capacità del futuro di cui dobbiamo assolutamente disporre ed è importante che quindi su questo ci sia un'iniziativa europea. Sottolineo anch'io, come abbiamo già detto anche nella riunione, che partiamo noi tre, ma siamo aperti alla partecipazione di tutti gli altri partner europei che possono essere interessati e sappiamo che questo è un punto di lavoro importante perché stabilire il cielo europeo vuol dire stabilire che cosa potrà volare, come potranno anche essere utilizzati i droni nel cielo europeo ed è comunque un punto fondamentale per la difesa del futuro. Grazie. Grazie.